Abbiamo giocato bene, è stato un arbitraggio che io definisco veramente scandaloso proprio dal punto di vista dell'impreparazione tecnica. L'arbitro ha determinato il risultato con delle scelte sbagliate, tra l'altro ha espulso per doppia munizione il nostro capitano, non ha dato un ricore netto dicendo che era simulazione, quindi se era simulazione su Cibelli avrebbe dovuto munire Cibelli, invece non ha dato un ricore netto, insomma un'aterna arbitraria disastrosa, speriamo che sia solo un episodio perché altrimenti così non si può giocare in questo campionato. Abbiamo giocato bene, sono contento di come i ragazzi hanno impostato soprattutto il secondo tempo. L'arbitro, ripeto, non vorrei adesso continuare a dire quello che ho detto, arbitrando disastroso, quindi riassume tutto, mille cose, ha cambiato 20 volte i falli laterali, 18 volte a noi, quindi veramente una cosa assurda. Grazie.